Da Virginia a vita. Lunedì 4 luglio 1927, 52, Tevistock Square. Sì, sei un animale agile, nessun dubbio, ma non sono affatto sicura che le tue capriole a Ebury Street, alle 4 di mattina, ad esempio, siano sempre spassose. Bestia brutta, cattiva e malvagia. Pensare di divertirti con le ostriche, con quelle letargiche, zuccherose labbra di ostriche. Ostriche oscene, lascive, ostriche fredde, immobili. Solo a pensarci. La tua ostrica al telefono era tutta in lacrime. Ecco la fede che c'è nelle ostriche. Ma che cosa ho trovato tornando? Un messaggio di Daddy. Sarà qui tra un minuto. Io sono sola e Leonard è fuori in macchina. E passeremo due o tre ore insieme, teta teta, io e Daddy. Brutta bestia, cattiva. E poi c'erano i funghi, il granchio, il letto, il ciocco nel camino. Sarà tutto messo a tuo credito. Io sono una donna giusta, equanime. Tu sii un bravo delfino. Salta, altrimenti troverai le soffici fessure di Virginia foderate di uncini. Ammetterai che sono misteriosa. Ancora non mi hai scandagliato a fondo. Chissà. Ma ecco, Daddy. Tesoro mio. Ti ricorderai di portare il mio impermeabile rosa confetto e i miei guanti scarlatti. Mi sono caduti nella hall, credo. Terro a martedì libero. Miracolosamente libero qualsiasi intenzione tu abbia. Trey e io abbiamo bellamente inneggiato, solfeggiato e cantato le lodi di Vita e di Harold. Il wild del Kent era soltanto lo sfondo del vostro splendore. Ecco qualcosa di veramente interessante. Ho una sola riserva. Riguarda i letti di Ebury Street. Ho perso gli orecchini. La tua Virginia. Quel terreo pallido e squallido Shank, con la mente di un muffin, tuo compare al premio author then, mi definisce una puttana disonesta. Così vedi, tu hai Edith. Io o Shank.